ciao bella ragazzi sono gabiro e oggi faremo una macchina quindi come il fatto ok c'è la distanza fra le ruote c'è sempre di due vedete 1 e 2 1 e 2 come base evitate di usare i blocchi anche per estetica sono meglio le lastre è di lastre ce ne sono però vi consiglio di non usare questa perché non ha un blocco identico usate queste che hanno pure i blocchi cioè che sono lastra di quarzo blocco di quarzo se lastra di pietra e blocco di pietra se sono completamente diversi fidati quella parte ci sta poi alle ruote ci mettete i pulsanti per sempre estetica poi le porte queste sono diverse aspettato un attimo c'è che butto questo per dormire solo di notte che palle ma niente che bello cioè dormire accanto al fuoco ok cioè quindi perché ci vi consiglio c'è di usare la pietra da bete c'è di betulla e di c'è rovere perché queste c'è di ascia c'è di giungla di ferro di c'è che posso dire c'è dietro ah ah scusa scusa c'è no c'è babà c'è poi c'è il bagagliaio cioè che sono ci mettete un po di di robe a cacchio le luci ci mettete la luminite ok vabbè sembra una macchina ciao giusto che macchina c'è senza una targa ci mettiamo una targa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 c'è guardate molto sicura c'è molto difficile c'è da interpretare non ci mettiamo c'è sempre la stessa sapete com'è c'è c'è le targhe c'è c'è sono uguali sia c'è avanti c'è di c'è ovviamente c'è mettiamo che io la testa ce la voglio non non a vabbè fa niente ce la fai ok c'è il cambio c'è il volante c'è l'unico modo per uscire c'è volante a posto c'è pare più una macchina c'è c'è sede c'è c'è poi c'è mettiamo che ci vogliamo ecco eh no no c'è non è come c'è questo c'è che si vabbè però è c'è così a livello sci me fammi me c'è aggrappati c'è i come si chiamano gli specchietti eh a proposito c'è 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 l'unica macchina c'è che c'è bisogna c'è entrare ci volevo fare lo specchietto pure adentro c'è però un po' difficile fa niente c'è niente c'è una macchina c'è un po' c'è squadrata c'è una macchina minecraftiana se ci vogliamo mettere pure l'antenna ce la mettiamo c'è però l'antenna per me è sempre meglio fare c'è sì una macchina c'è niente se vi è piaciuto questo episodio lasciate mi piace condividete iscrivetevi e io vi consiglio di usare c'è 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 queste porte perché c'è questa c'è questa c'è questa e questa sono aperte c'è vedi c'è attraverso c'è niente iscrivetevi mettete mi piace condividete e noi ci vediamo domani per un prossimo video bella ragazzi ciao